Stiamo riprendendo, vai parla Ciao a tutti ragazzi, questo è il mio nuovo video Andremo ad aprire due boli di maggio Un boli di argento, un boli gigante e due boli di maggio Per chi non lo sapesse, lui è DavidSuper09 Innanzitutto vi volevo farvi vedere le leggendarie Boscaiolo e Minatore Il nostro primo ha esattamente salito, 3068 Ok, incominciamo dal boli di maggio Oro Mortaio Fireball, buono E una epica, raga Raga, una epica da boli di maggio Questo boli di maggio mi piacerà No, ha fatto schifo E innanzitutto andiamo ad aprire i boli di argento Buono Schifo Abbastanza buono Vedremo se c'è la leggendaria da boli di argento Forse no No Prima di aprire questo boli gigante Escici da leggendario Speriamo Speriamo in un'epica almeno 1201 di oro Già un'epica E 208 Speriamo in un'epica ALG Per Looks Speriamo in un'epica al soluomina Grazie a tutti 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 Grazie a tutti